Pietro si rende conto che Dio lo ha liberato dalla paura e dalle catene e Dio libera tutti noi affinché possiamo essere veramente liberi. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa per la festa dei Santi Pietro e Paolo davanti alla delegazione ecumenica del patriarcato di Costantinopoli e agli arcivescovi metropoliti che hanno ricevuto il pallio. Nel Dopo Angelus in piazza San Pietro ha rivolto un appello per la fine delle violenze in Iraq. Nell'Omelia della Messa ha parlato della paura di Pietro e della paura degli apostoli, dei vescovi, di tutti i credenti di fronte alle prove. La testimonianza dell'Apostolo Pietro ci ricorda che il nostro vero rifugio è la fiducia in Dio, allontana ogni paura e ci rende liberi da ogni schiavitù e da ogni tentazione mondana. Il Signore ha detto il Papa, oggi ripete a me, a voi, a tutti i pastori, seguimi. Non perdere tempo in domande o in chiacchieri inutili, non soffermarti sulle cose secondarie, ma guarda all'essenziale e seguimi. Seguimi nonostante le difficoltà, seguimi nella predicazione del Vangelo, ha detto il Papa, seguimi nella testimonianza di una vita corrispondente al dono di grazia del battesimo e dell'ordinazione, seguimi nel parlare di me, a coloro con i quali vivi, giorno dopo giorno, nella fatica del lavoro, del dialogo e dell'amicizia. Seguimi, infine, nell'annuncio del Vangelo a tutti, specialmente agli ultimi, perché a nessuno manchi la parola di vita, che libera da ogni paura e dona la fiducia nella fedeltà di Dio.